Solo due parole per parlarvi del mio ultimo libro, dopo Ciao papi, Scintilla di vita e Rinascita. Si chiama Il patto dell'anima. Il patto che ogni anima stringe con le anime delle persone con cui interagirà durante il percorso terreno. È un libro che non ha assoluta pretesa di dettare verità, ma che è scritto parzialmente in medianità e soprattutto con il cuore. È un libro che affronta delle tematiche molto particolari, molto attuali, come possono essere l'aborto, l'eutanasia, la malattia, la disabilità, l'omosessualità, quindi le diversità, l'islam e soprattutto il perdere un figlio per un genitore. È un libro che in qualche modo dovrebbe cercare di aiutare le persone a guardare questa separazione o guardare tutto quello della vita che ci sembra ingiusto con un occhio diverso. Quindi sono convinto che sarà un libro che potrà essere di grande aiuto per molte persone. Inoltre tutti i proventi del vendito di questo libro andranno alla fondazione Butterfly, una fondazione che ho creato 15 anni fa dopo la morte di Sibir e che sostanzialmente opera in tutto il mondo, soprattutto in Etiopia, realizzando progetti dedicati ai bambini, scuole e pozzi d'acqua. Quindi io mi auguro che questo libro possa essere venduto, acquistato da molte persone, non solo per aiutare la fondazione, ma soprattutto per poter guardare la vita con magari un occhio diverso.